Buona serata qua dal porticciolo di Genova Nervi. Come puoi vedere dopo aver scarpinato oltre la collina si arriva qua al porticciolo dove ci sono appunto questi simpatici pub che soprattutto nella stagione primaverile e invernale sono particolarmente graditi perché sono abbastanza caldi ed accoglienti. Purtroppo il mollo là in fondo non è facilmente accessibile, bisognerebbe migliorare sicuramente alcuni aspetti dell'urbanistica qua nel porticciolo nerviese. Come puoi vedere qua mollo e barche stavano facendo un po' di lavoro di ristrutturazione al porticciolo di Genova Nervi. Questi sono ottimi locali dove uno può fermarsi a mangiare, pranzo e cena. E là in fondo come puoi vedere la passeggiata di Nervi prosegue, prosegue verso i suoi lati orientali. Questa sarebbe la vera e propria partenza dal porticciolo. Io per il momento con queste belle immagini qua dal frontemare del porticciolo di Nervi vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.